Si è svolto a Teramo il congresso territoriale dell'UGL. All'incontro ha preso parte il segretario generale del sindacato Paolo Capone. L'obiettivo del confronto è stato anche quello di affrontare temi locali e regionali che riguardano l'occupazione, l'economia e il lavoro. È un momento di cambiamento. È un momento di cambiamento che riguarda, secondo le previsioni anche dell'Europa, il tipo di motorizzazione che devono avere le nostre automobili e quindi tutto l'indotto del settore automotive. Abbiamo delle punte di eccellenza nella produzione, nell'area di San Salvo, anche nel Teramano. Bene, su tutto questo va fatta chiarezza. Ci vogliono politiche industriali chiare da parte del governo, indirizzi chiari e un supporto che è fondamentale. Io credo che si può giocare una partita che nel futuro può dare delle soluzioni, soltanto se però si interviene rapidamente. Il segretario generale ha parlato anche delle misure complementari utili ad unire alla solidità del mercato del lavoro la crescita produttiva. Tra le iniziative proposte è quella di favorire l'ingresso dei lavoratori alla gestione delle imprese. La partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, che è una proposta che noi portiamo avanti dal 1950, quando è stata fondata la Cisnal, è in realtà non è una proposta originale nostra, è scritta sulla Costituzione e all'articolo 46, mai applicata in Italia. Abbiamo allora spinto moltissimo negli ultimi tempi su questo argomento e vediamo con piacere che anche altre organizzazioni sindacali hanno iniziato a cogliere l'importanza di questa proposta. Che cos'è questa proposta? È decretare la fine della lotta di classe, che è un retaggio che è stato utile all'inizio del secolo scorso, ai primi del Novecento, e passare a quello che abbiamo chiesto anche al Presidente Meloni, a un grande patto tra capitale e lavoro, con la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, alla divisione degli utili e alla determinazione degli obiettivi di ogni singola azienda. Grazie.